Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo nuovamente su Uncharted 2 Il covo dei ladri Siamo un po' a un inizio diciamo così disastroso Perché Elena la biondona ha portato un po' di compagnia Ok prendiamo un po' di colpi Come potete vedere ci siamo ricongiunti con la balla biondona E abbiamo dato via il triangolo no non l'avevo considerato Grazie Grazie Prego Ah si certo C'è una scala di là Si là però Se lo attraversassimo a nuoto La corrente è troppo forte Non ce la faremo mai Allora ho visto che la corrente è forte Olè Olè Tra una via alternativa Forza Ti spingo su Oh mostrami le belle chiappone Si ma come faccio io a salire Questa mi sa che non si abbassa sta scala Ah ok Grazie Chloe Elena è quell'altro? Vediamo No 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 Da quel che partiva devo pure andare Allora 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 Sparo Al serbatoio Ok Bene Ci porterà a metà strada Ottimo così direi Permesso Elena No No Allora Vai a farti un bel bagno Elena Che puzzi Puzzi di giornalista Allora Intanto qui da me stiamo facendo bordello Ma tanto bordello Non capisco dove devo andare Forse ho capito come fare Ok Ah basta usare le macchine Allora Non avevo visto che c'era l'altra macchina Ole Ma Chloe come ha fatto ad arrivare qui senza fare il giro Eh no raga Io ho dovuto fare tutto il giro Quella si è Catapultata qui Uh Uh Si ma vabbè ma stanno sparando anche loro Ma porco cane A riparo Brava Se ne sono baccati Dobbiamo farlo fuori Non li vogliamo Tutti che ti prendi a via di là Perchè Sandack Ka78 Chi 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 Grazie a tutti. No, non farlo, no! Merda. No, non farlo! Oh! No, non farlo! 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 Accio! No, non farlo! Suflex! Bello avere i colpi infiniti! Ok, via libera ora! È sempre così con lui! Abbastanza! Dai, saliamo! Olè! Ho visto qualcosa lassù! Andiamo, di qua! Ah, è così che si fa! Occhio! Piano! Carro armato! Muoviamoci! Dobbiamo spregarci! Alla faccia dei tempi bui ragazzi! Andiamo, andiamo! Tanto qua stanno facendo musica a tutt'andare! Boom, 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 boom! Bene! Qui dovremmo essere assicurati! Va bene in teoria! Oh! Non dirmi che siamo già arrivati! Bene! Guarda qui c'è qualcosina eh! Essendo così ampio! Infatti! Infatti! Allora, lì c'è no eh! Basta! Non c'è più niente! Entriamo nel tempio! Filmato! Allora che ne dici? C'hai condotti alla porta! Immagino mai che ci devono rallentare! Siamo finiti in questo posto! No, non esattamente! Ma sei uno stronzo! Ok, e allora che cosa stai cercando? Vedi quel simbolo lassù? È noto come pietra cintamare! È un enorme zaffiro grezzo! Vale milioni! Quindi, per farla breve, tu sei in competizioni con uno psicopatico criminale di guerra per una gemma mitologica! Messa così, sembra una cosa piuttosto stupida! Grazie tante, Jeff! E dovrebbe trovarsi in questo tempio! A me era in teoria! La pietra non è proprio qui! Ehi, guardate là! No, è a Shambhala! Shambhala? Nate! Sì, sai... Nate, posso dirti una cosa, tesoro? Ripensandoci, forse è meglio continuare questa conversazione dentro! Buona idea! Andiamo! Bene, qui siamo al sicuro! C'è qualcosa che non torna, Nate! La Zarevic non può volere i soldi! A lui non servono! Qualcosa ti sfogge! Forza! Non abbiamo molto tempo! Voi restate qui! Ok! Non muovetevi, d'accordo? Torniamo subito! Sì, tra un paio d'ore! Le ultime parole famose! Le ultime parole famose! Ce ne sono altre! Molto bene ragazzi! Io direi che per oggi possa essere tutto! La prossima volta ripartiremo da qui! Io come sempre vi invito a lasciare un bel like! A commentare! Condividere! Iscrivervi al canale! Se non l'avete ancora fatto! E... Alla prossima! Ciao! Aspettate eh! Però vi voglio far prendere... Così! Almeno la prossima volta partiamo bene! Munizione a tutt'andare! Eh! Andiamo a esplorare! Un attimino! Ma era meno così! Non devo più stare a cercare dopo! Alla prossima volta! Uh! Mi fa andare sopra? Lo dicevo io che qui... Eh! Appunto! Lo dicevo! Quindi anche dall'altra parte ci potrebbe essere qualcosa! Eh! Non esattamente! Ok! Bene! Perfetto! A post! Ciao!